e allora Gabriella possiamo passare a presentare la prima ospite femminile del nostro programma a Castrocaro, è stata una delle vincitrici di Castrocaro, concorso di Castrocaro Terme e poi ha vinto la gondola d'argento a Venezia, eccola qui, si chiama? Emanuela Cortesi Emanuela Cortesi, romagnola, quindicenne, con la canzone Io ci credo ancora, di Marzoglio Pirazzoli Calabrese, eccola qua Avere e non avere Amare e non amare Le mie paure le ritrovo con te Non chiamare le storie Fanno parte di me Alla mia età si ragiona tuttavia Alla mia età si muore di malinconia Non sono rimasta indietro Se io non voglio ancora Accettarti così Come qualcuno con cui vivi un momento E basta Uno dei tanti Che non si conta Uno che in tanto Nella mia mente Non lascia niente Niente Io ti voglio, voglio Per amore, amore Grande mio perché Sono una che ci crede ancora Sono una che ci crede ancora Io ti voglio, voglio Per amore, amore Grande mio perché Sono una che ci crede ancora Non è caso, no Che sono qui con te Io andrò in un'alberiente Ma cerca di capire Che ognuno vive Chiuso dentro a un'idea Voglio quel che voglio E parlando di me Non voglio avere E nemmeno immaginare Amori stanchi e morti Prima di sbocciare Io vivo nel mio tempo Ma questo non vuol dire Se si tratta di te Che tu sia uno Con cui viva un momento E basta Uno dei tanti Che non si conta Uno che intanto Nella mia mente Non lascia niente Niente Io ti voglio, voglio Per amore, amore Grande mio perché Sono una che ci crede ancora Sono una che ci crede ancora Sono una che ci crede ancora Io ti voglio, voglio Per amore, amore Grande mio perché Sono una che ci crede ancora Non è caso, no Che resto qui con te Che resto qui con te